Ciao a tutti, sono ancora qua, io mi chiamo Robi Rani e parlerò di Star Wars molto molto bene in questa piccola rubrica che verrà caricata tutti i venerdì dopo la puntata di The Mandalorian, per cui oggi cosa significa? Che oggi è stata rilasciata la prima puntata della seconda stagione di The Mandalorian. Carica bestia, sono qui per raccontarvi un po' di questa puntata, qualche curiosità e soprattutto per cercare di trasmettervi in maniera pesantissima tutto il mio hype totale, globale, mondiale, ma è una cosa molto importante da dirvi, da farvi notare che nel caso voi non l'abbiate ancora vista, vi consiglio di andare via, perché io qua, spoiler, vado dritto, sarà proprio così diretta, non posso, non mi posso trattenere, altrimenti mi direi solo è bellissima, figata, guardatela. No, invece ho bisogno di parlare, ho bisogno di sfogarmi, ho bisogno di condividere con voi tutto quello che ho provato e che ho sentito e anche che ho visto, perché ci sono diverse curiosità con cui, insomma, discutere, io discuterò con le curiosità. Molto bene, per cui da adesso in poi, spoiler alert, l'avete visto, rimanete, non l'avete visto e recuperatelo dopo che l'avete visto. Un titolo che giravano già da tempo, ogni titolo è preceduto dal capitolo e non è il capitolo 1, stagione 2, ma continua con la numerazione, per cui siamo al capitolo 9. Molto figo che aiuta a rendere tutta la storia, non divisa in due stagioni, ma in un blocco solo, almeno io sono feticista per queste cose, per cui mi piace ancora di più. The Mandalorian continua con lo schema, con il tono della prima stagione, per cui abbiamo western, anzi, mi verrebbe da dire quasi che questa qui forse è la più western di tutte. Abbiamo uno sceriffo, abbiamo un piccolo paesino fantasma, abbiamo tanta sabbia, tanto caldo, abbiamo i cavalli, abbiamo gli indiani, insomma, è un western fatto e finito, ma in salsa Star Wars. E la cosa che salta subito agli occhi continuano a essere le parole di Jon Favreau, quelle che abbiamo sentito nella serie Gallery, che trovate sempre su Disney+, e se non l'avete vista guardatevela, perché sarà un nuovo va de necum per come dovrà essere Star Wars dall'anno scorso a futuro inoltrato, in cui Jon Favreau dice le seguenti parole, noi non ci siamo ispirati a Star Wars, ma ci siamo ispirati a quello che ha ispirato Star Wars, o meglio George Lucas, ok? Per cui in questo film noi percepiamo, in questa serie, non è un film, ma di fatto è un film, anche perché dura 47 minuti, parlo dell'inizio e la fine di tutta la storia della puntata, togliendo l'intro e togliendo l'altro. Per cui sono 47 minuti, la puntata più lunga, per cui si può definire un lungometraggio o un film, se vogliamo, diretto da Jon Favreau, si vede tutto e è chiaro dove si ispira, si ispira in una maniera impressionante a tutto il mondo western, quasi a plagiarlo. E apro una piccola parentesi, anche Star Trek Discovery sta prendendo quella piega lì. Ora, nella puntata scorsa è un western fatto e finito, anche quello, vediamo come sarà la puntata che ho uscito oggi, ma che non ho ancora vista. Non solo, cita tantissimo lo squalo, Tremors, se vogliamo, e cita in maniera, ripeto, lo ripeto per la millesima volta, il cinema western in tutto e per tutto. La puntata più o meno racconta questo, il mandaloniano l'abbiamo lasciato alla fine della prima stagione con il piccolo bambino che andava alla ricerca del suo popolo, del suo planeta e via dicendo, ma era molto vaga come cosa. La prima puntata inizia con lui che va da una sorta di boss mafioso durante un incontro che abbiamo visto anche nel trailer, dove gli dice, guarda, c'è un mandaloniano e un mandaloniano è su Tatooine. Allora gli dice, guarda, ci sono già stato su Tatooine, ma di mandaloniano non ce ne sono. No, no, ti giuro, ti giuro, ti giuro, è lo sceriffo di Mos Pelgo. Mos Pelgo è questo nuovo Mos di cui non abbiamo mai sentito parlare ed è il paesino fantasma di cui vi parlavo prima. Per cui abbiamo Mos Espa, Mos Eisley e Mos Pelgo che è questo letteralmente paesino fantasma in mezzo a un deserto di sabbia. Molto bene, lui si dirige su Tatooine e comincia il western, torna dalla sua amica che è la proprietaria del doc con i tre droidi, ricordate, i Tristuge che abbiamo già visto anche in episodio 1 e gli mostra la mappa olografica dove gli dice, guarda, qui c'è Mos Pelgo e lui dice, ma qui non c'è nulla, è perché probabilmente è stata spazzata via. Questa cosa ricorda tantissimo la ricerca di Camino con Obi-Wan e Yoda, vi ricordate dove sono tutti i pianeti? Dici, guarda, qui dovrebbe esserci un pianeta perché vedo l'attrazione ma in realtà non c'è nulla. E lui dice, perché qualcuno l'ha tolta e se qualcuno l'ha tolta è evidentemente su un cazzo da cagare, detta come va detta. Per cui ricorda molto questo momento. L'altra cosa molto divertente è che questo ologramma viene proiettato da R5. E vi ricordate che è R5? Se non vi ricordate ve lo dico io. R5 è il droide che stanno per comprare Luke e lo Zee Owen in Star Wars del 1977. Ed è esattamente quello a cui gli si rompe il motivatore. La cosa figa è che dove gli si rompe il motivatore, in questo R5 che lo vediamo in The Mandalorian, c'è l'olio, già si vedevi in alcune foto e anche se non ricordo male nella prima stagione. E qui lo vediamo molto molto bene, per cui chicca bellissima. Prende la speeder bike, per non farsi vedere con la sua Razor Crest, e va appunto verso questo mospevo. Vediamo subito che lui è in contatto, in stretto contatto con i Tusken. Ci parla, c'è molto rispetto tra le due razze. Sa molto sui Tusken. Spesso in questa puntata cita la loro storia. Dice, che cazzo dici? Guarda che loro ne sanno un bot di sta roba. Sono migliaia di anni loro che vivono e convivono con questa calamità. Che questa calamità è? Meraviglioso, il Drago di Krait. E il Drago di Krait, piccola chicca, sapete qual è? Sapete dov'è? Parliamo del 1977, parliamo del canone attuale. Cioè, il Drago di Krait che abbiamo sentito e visto nei vari fumetti dell'ex Expanded Universe, attuale Legends, era molto diverso da quello che vediamo qui. Perché lo vediamo e lo vediamo anche molto bene. Era un mega lucertulone, una sorta di boga, meno uccello, molto lucertulone, però veramente mastodontico, con queste corna classiche da dragone. Ecco, in questa prima puntata, che sarà un po' la minaccia che dovranno affrontare, per poi risolvere il problema, che dopo vi andrò a dire anche gli altri dettagli, succede che praticamente questo Drago di Krait è un mega vermone. E io ho detto, ma mi ricordavo fosse un Drago, mi ricordavano se le gambe. Invece è un vermone perché? Perché nel 1977, quando C-3PO rimane da solo nel deserto, poco prima di essere catturato o rubato dai Jabbas, vediamo questo bellissimo scheletro lunghissimo sopra questa duna, questa cresta di una duna, e quell'altro non è che è un teschio, è uno scheletro di un Drago di Krait. Per cui anche qui torna molto molto figo. E l'altra cosa molto interessante, citando l'Expanded Universe, se vi ricordate Darth Krait, che prendeva appunto nome dal Drago di Krait, aveva questo elmo iconico con queste corna, che riprendevano le corna del Drago. Ecco, queste corna, in questo vermone, sono state mantenute più o meno a grande linea, ma sono quelle, per cui vedete l'amore che c'è dietro. Lì c'è Filoni, c'è Filoni, c'è Filoni. Io immagino queste persone che dicono Filoni, tu dici, e Favreau fa, perché questa è una cosa molto importante. Il fatto che ci sia Favreau dietro questa puntata è fondamentale per partire in tromba, perché è una bomba questo filmino di 47 minuti. Molto bene, Mandaloriano, Dean Jarlin, arriva a questo Mos Pelgo, classica scena, invece che avere il cavallo allo speed alle due e l'ora, tutti quello guardano, tutti che si spostano, che si fermano, osservare lo straniero che arriva in città, va al saloon, entra nel saloon e gli dice, sto cercando un Mandaloriano. Eh, ma chi è un Mandaloriano? È uno fatto come me. E' lui, lo sceriffo. Si gira e c'è... PAM! 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 C'è uno con l'armatura di Boba Fett. E lì, prima Gina Pectoris, fermi tutti. L'armatura di Boba Fett, bagattata, massacrata, dal tempo, dai Javas, da tutto quello che è successo prima. Ma chi lo indossa, lo indossa Cobb Vant. E qui, altra bellissima, enorme citazione, che però ho dovuto condividere con gli amici di Empirah, che io non l'ho ancora letto, viene presa paro paro da Aftermath. Mi dicono anche che c'è qualche differenza, volendo, ma le abbiamo viste anche nel canone, diverse differenze. Ma va bene, sopra sediamo, perché veramente dopo tutta questa roba, chi se ne frega. Per cui c'è Cobb Vant, che altro non è che lo sceriffo di questa Mospego. Ok? Bellissima scena, quasi duello. Lui dice, mi devi dare l'armatura, perché appartiene a me. Io sono Mandaloriano, ma è veramente figo vedere Cobb Vant che si toglie l'elmo come se niente fosse, il Mandaloriano che si blocca. E noi tutti diciamo, che cazzo fa? Cazzo se lo toglie? Tutta quella facilità, non si può toglierlo, cazzo Dio. E lui, subito, la prima cosa di capire, si è rimasto stupido perché sai che io non sono Mandaloriano. Io so come funziona il Mandaloriano e non lo so. Bellissimo personaggio, non ve la racconto tutta, perché tanto l'avete già vista. Bellissimo personaggio, Timothy Oliphant, altra conferma di un rumor, per cui ragazzi, tutti i rumor che sono arrivati, più o meno saranno ufficiali, per cui aspettiamoci di vedere tutto. Fanno un accordo e dicono, ok, uccidiamo il Drago Kraid, se vi dà una mano a uccidere il Drago Kraid, che dopo un po' lo vediamo arrivare a fare del disastro, come Tremus, in questo piccolo villaggetto, allora io ti darò l'armatura che ti spetta. Molto bene, si mettono d'accordo, vanno per andare dove c'è la Tana, perché Cobb Vant dice che sa dove sta, e mentre partono vediamo lo Speeder, oddio, mi ha detto un colore anche lì, vediamo lo Speeder di Cobb Vant, voi non ci crederete, ma ci crederete, perché l'avete già visto, perché se siete ancora qui l'avete visto, e se siete ancora qui che non l'avete visto, bravi, ma vi sto rovinando un po' tutto, lo Speeder è realizzato, ora qui adesso ci sarà da fare delle ricerche, e le farò, perché sono molto curioso, è realizzato con uno dei due motori del Pod Racer di Anaki, completamente asimmetrico, con il seggio di fianco, con il motore a destra, i colori ritornano, alcune cose, c'è alcune carlinghe rosse che però nel Pod Racer non c'erano, per cui potrebbe veramente essere quello, perché dico che potrebbe essere quello, perché Anakin dice che lui l'ha costruito, perché non è un modello di serie, anche perché non credo esistano i modelli di serie, per cui è molto, ma molto, ma molto facile che Cobb Vant abbia preso uno dei motori del Pod Racer di Anakin e ne abbia fatto uno Speeder, meravigliosa questa cosa, vanno avanti, a un certo punto incontrano i sabbipodi con i loro cani super cattivi, al momento non mi ricordo il nome, chiedo scusa, e il Mandaloriano dialoga con loro e scopre che anche loro vogliono uccidere il drago di Krayt, si uniscono e vanno cercando di combattere il drago di Krayt, va bene, a questo punto comincia la battaglia, comincia la guerra con il drago, molto figo, l'esca lo catturano e via dicendo, una piccola nota a margina, apro una prima parentesi, un'altra parentesi, non una prima parentesi scusatemi, in tutto questo non vi è nominato Baby Yoda, The Child, The Child in questa puntata c'è, ma è un secondo, te lo sto a quarto piano, appare per far sorridere, appare per ricordarci quanto è pupino questo cosino qui, ma in realtà non serve, in realtà serve, perché lui è lì per cercare un Mandaloriano, per riportarlo a casa, ma in realtà non ne abusano, questo è stato per me un grande regalo, non che non mi piaccia, sia chiaro, ma mi aspettavo che sfruttassero questo enorme fenomeno, che era Baby Yoda, per spingere di brutto su questa puntata, su questa nuova stagione, e invece no, nella prima puntata c'è, e fa quello che deve fare, è presente, sta al sicuro, viene portato dal mando, ma non fa altro, tranne qualche piccola faccina, che fa molta tenerezza, ma sono faccine tutte sensate, e coerenti con la storia, con il suo personaggio, per cui molto bene, perfetto, uccidono il drago, tutto quello che volete, in maniera etica, ci sono un paio di scene, in cui i due, non dico i due Mandaloriani, ma Dean Jarwin e Cobb Vant, volano con i jackpack, da brividi totali, finisce tutto, tra l'altro, cosa bellissima, che mi ha fatto notare Massimo, io l'avevo notato solo in chiusura, ma non in apertura, durante la sequenza, del combattimento del drago di Kraut, l'inquadratura cambia, si apre, per dargli più respiro, e per poterla vedere meglio, in una, cioè, vi garantisco che, l'apertura non la notate, ma la chiusura la notate, ed è un capolavoro totale, finita la guerra, lui, la guerra con il drago di Kraut, lui recupera, gli dà l'armatura, infatti vi ricordate, vi ricordate i rumor, in cui lui andava, e si vedeva questa sorta di jackpack, in realtà era reale, anche se non mi torna molto, con quello che ho visto, ma dovrò recuperarlo, comunque era reale, gli dà il suo Mandaloriano, l'armatura di Boba Fett, se la mette lì, e lui parte, nel momento che parte, l'inquadratura, torna a Sedicinoni, in maniera molto morbida, e mentre torna a Sedicinoni, c'è il tramonto di Tatooine, ascoltate bene questa scena, ma intanto l'avete vista, il tramonto di Tatooine, lui, con tutto il fumo, che va verso, appunto, la città, diciamo che se ne va, dalla Tana del Kraut, e appare, una figura di schiena, questa figura si gira, ed è, sbra-ba-ba-ba-ba-ba-bob, pin-bo-spe-sbradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada, Boba Fett, aka Tamuera Morrison, tutto butterato, rovinato dall'acido del Sarlacc, aaaaaa, vabbè, ok, capite che io sono completamente in fotta, abbiate pazienza, in tutto questo, provo a uscire un attimo dal mio api, dalla mia fotta, e cercare di essere un minimo più serio ed obiettivo, ragionando la puntata non per noi, non per me, ma per il pubblico che si avvicina a questa serie o al pubblico che si avvicina a Star Wars per chi ha sentito parlare di sto baby Yoda e sto vandaloriano. Questa puntata è fruibile per chiunque, per i bambini, per gli adulti, per le donne, per i fan, per i non fan, perché è una puntata diretta in maniera impeccabile. Si prende il suo tempo perché è un western, per cui dovevo mangiare anche quel tono, quel ritmo. Si prende tutto quello che vuole e ve lo ridà, ve lo ridà con gli interessi. E perché vi garantisco che la puntata è finita con una mia grandissima soddisfazione, ma non parlo del fatto che in finale veniamo a Boba Fett, ma la mia soddisfazione è dovuta che ho finito questo pranzo e mi sentivo realizzato. Vi dirò che non ho neanche tutto questo hype mostruoso per la settimana prossima, perché questa puntata è un regalo che inizia e che finisce. Il top, meglio di così non poteva andare e credo che possa piacere a qui o a qui, perché è molto semplice, è fruibile e soprattutto ha una storia basilare, come del resto è The Mandalorian, basilare, dove non vai a colpire con i salti mortali della storia sul tradimento di pinco, di pallino, della morte, di qua e di là, ma vai a raccontare una storia che possa piacere a chiunque, che possa fruibile per chiunque, ma finalmente lo si confeziona con tutto quello che è realmente, quello che doveva essere dal 2015, il brand di Star Wars. Con oggi abbiamo chiuso, spero di aver detto tutto, ma con il live probabilmente me lo sarò dimenticato, vi chiedo ancora scusa per il rimbombo, abbiate pazienza, settimana prossima o cambio location, ho vinto di sistemarla assolutamente. Ciao a tutti, qui da Lega Nerd, è tutto, alla settimana prossima per il capitolo 10. Questa è la via.